Io non sopporto quando mi presentano come un comico giovane. Cioè, in Italia ti dico, ah, adesso un giovane comico, Francesco Decao, ma c'ho 40 anni, giovane de che? Cioè, all'estero ce ne stanno comici dei 20 anni in televisione, direttori di rete sui 35, qua in Italia, fino a 70, sei giovane. A 71 sei un ragazzaccio. Un ragazzaccio. Qui in Italia, se non hai 60 anni e un mutuo estinto, non sei nessuno. Cioè, c'ho 40 anni. Io c'ho un'ernia del disco. L5S1. La vuoi toccar?